Ciao sono Patrick Sheriff e oggi vediamo come preparare la verifica relativamente ai capitoli 28 29 e 30 dei promessi sposi. Vediamo dunque alcuni elementi fondamentali da tenere in considerazione. Come al solito cominciamo dalla trama. Prima di continuare se vuoi semplificare il tuo studio ti informo che ho pubblicato due libri sui promessi sposi. Il libro con la copertina azzurra ti offre i riassunti per sequenze di tutti i capitoli aiutandoti a conoscere la storia completa in maniera precisa e veloce. Il libro con la copertina gialla invece ti mette a disposizione le descrizioni e le analisi di tutti i personaggi e la spiegazione dei temi di ogni capitolo aiutandoti così a preparare verifiche e relazioni sull'argomento. Trovi link in descrizione e nel primo commento. Il narratore ci illustra i provvedimenti che il governo milanese ha preso dopo i tumulti di San Martino. Si tratta di una serie di gride di provvedimenti fiscali volti ad abbassare il prezzo del pane. L'abbassamento del prezzo del pane provoca un più rapido esaurimento delle scorte delle scorte di farina e di conseguenza un peggioramento della carestia. Così nel capitolo 28 il narratore ci illustra il peggioramento della carestia che provoca una serie di morti letteralmente di fame. La gente muore di fame per le strade. Le strade di Milano si riempiono di accatoni di mendicanti e di tantissima gente proveniente dal contado nella speranza di trovare del cibo in città. Ma in città ovviamente le scorte sono finite e dunque la gente muore di fame. Tutta questa concentrazione di persone, questo aumento di cadaveri per le strade favorisce le malattie, favorisce il deperimento fisico dei cittadini e di conseguenza il Tribunale di Sanità ha paura delle epidemie. Così si decide di aprire il lazzaretto e di concentrare all'interno tutti gli accatoni e i mendicanti che si trovano a Milano. Ma ciò ovviamente non fa che peggiorare la situazione in quanto all'interno del lazzaretto un alto numero di persone concentrate favorisce la diffusione maggiore di malattie ed infatti la mortalità aumenta. Finalmente nell'estate del 1629 la carestia finisce in quanto sia un racconto abbondante. Finita la carestia riprende la guerra ossia la guerra di successione al ducato di Mantova e del Monferrato. Il narratore ci informa che le truppe francesi valicano le Alpi però poi tornano immediatamente indietro e dal canto suo l'imperatore Ferdinando II rivendica Mantova come feudo imperiale e così invia i Lanzichenecchi ovvero le truppe mercenarie al servizio dell'esercito tedesco. Lanzichenecchi che scendono in Italia scendono nel ducato di Milano dove restano per otto giorni e dopo entrano nel territorio di Lecco. I Lanzichenecchi sono conosciuti per la loro terribile fama di devastatori di saccheggiatori e tutta la popolazione milanese quando sente che i Lanzichenecchi stanno arrivando nel loro territorio è sfaventata abbandona le proprie case e si rifugia sui monti o sulle o sulle colline e i Lanzichenecchi quando arrivano saccheggiano distruggono tutto stuprano uccidono e continuano nel loro percorso di distruzione e morte fino ad arrivare a Mantova. Inoltre il Tribunale di Sanità ha informato Don Gonzalo Fernandez de Cordoba che tra le file dei Lanzichenecchi cova la peste e dunque non vorrebbe che il governatore di Milano permettesse loro di entrare nel ducato di Milano ma Don Gonzalo dice che il loro passaggio è obbligatorio per questioni di politica maggiore e pertanto per quanto riguarda la peste invita ad affidarsi alla provvidenza. Il narratore prosegue a questo punto illustrandoci la sofferenza della gente comune e più specificatamente lo sguardo si poggia su Don Abondio, Perpetua e Agnese che per sfuggire per salvarsi dai Lanzichenecchi decidono di andare a rifugiarsi nel castello dell'Innominato. Castello dell'Innominato che dopo la conversione del bandito è stato trasformato in un rifugio, in un luogo di protezione, in un luogo che è divenuto il simbolo del bene e che accoglie tutti i fuggiaschi, tutti i profughi che cercano salvezza dall'esercito dei Lanzichenecchi che sta discendendo nel ducato di Milano. E l'Innominato accoglie tutti, ha addirittura allestito un piccolo esercito con cui fronteggiare i Lanzichenecchi. Dunque Don Abondio, Perpetua e Agnese si mettono in cabino per raggiungere il castello. Durante il tragitto fanno una tappa alla casa del Sarto per salutarlo, fanno una tappa alla casa del Sarto su invito di Agnese, in quanto Agnese e Lucia erano stati ospitate precedentemente dopo che era stata liberata Lucia, dunque vanno per salutare il Sarto e la sua famigliola e nel frattempo il Sarto informa Don Abondio della nuova vita dell'Innominato, di quanto sta facendo, del bene che sta facendo dopo la sua conversione. Infine i tre raggiungono finalmente il castello dell'Innominato dove vengono accolti personalmente dall'ex bandito, ex bandito che gira sempre disarmato e il narratore ci illustra, ci racconta il soggiorno di Don Abondio, Perpetua e Agnese e di tutti gli altri profughi al castello dell'Innominato durante il passaggio dei Lanzichenecchi. Quando tutte le truppe dei Lanzichenecchi hanno attraversato il ponte di Leque, tutti i profughi tornano al loro paese, inclusi Don Abondio, Perpetua e Agnese, i quali però, esattamente come tutti gli altri profughi, trovano le proprie case distrutte, devastate e saccheggiate. Don Abondio addirittura scopre attraverso Perpetua che alcuni suoi oggetti sono stati si rubati ma non dai Lanzichenecchi bensì da alcuni suoi compaesani. Ad ogni modo Don Abondio non va da questi compaesani in quanto ha paura ma ha anche paura che qualche soldato dei Lanzichenecchi sia rimasto indietro sia ancora nel territorio di Milano e dunque ogni volta chiude con grande attenzione luscio della sua casa. Ma il narratore ci informa che Don Abondio, così come tutti gli altri, non dovevano più preoccuparsi dei Lanzichenecchi bensì di un pericolo maggiore che pian piano si stava diffondendo nel territorio di Milano, ovvero la peste. Passiamo adesso a vedere alcuni elementi fondamentali da tenere in considerazione. Il primo elemento riguarda il liberismo economico a cui fa riferimento Manzoni nel descrivere il peggioramento della carestia. Infatti l'autore ci illustra che il mancato rispetto della legge economica della domanda e dell'offerta provoca un rapido esaurimento delle scorte di farina e un conseguente peggioramento della carestia. Un'altra cosa da tenere in considerazione riguardo a questo capitolo è l'incompetenza delle autorità rappresentate nella figura di Don Gonzalo Fernandez de Cordoba. Un Don Gonzalo egoista, un Don Gonzalo incompetente che non capisce il pericolo della peste che cova all'interno dell'esercito dei Lanzichenecchi e ne permette il passaggio, ne permette l'ingresso nel territorio dello Stato di Milano. Questo perché Don Gonzalo è esclusivamente interessato alla sua carriera politica. Ma un Don Gonzalo che verrà anche rimosso dalla sua carica di governatore è sostituito con Ambrogio Spinola, nuovo governatore dello Stato di Milano. Rimozioni di Don Gonzalo legata ai suoi insuccessi durante la guerra di Mantova e del Monferrato, più precisamente al suo insuccesso militare durante l'assedio di Casale e Don Gonzalo lascerà la città tra i fischi e gli insulti della folla che lo reputa responsabile della carestia e in seguito quando si diffonderà la peste il popolo crederà che gli untori sono stati inviati da Don Gonzalo per vendicarsi degli insulti ricevuti nel momento in cui ha lasciato lo Stato di Milano. Un altro punto fondamentale da tenere in considerazione per la preparazione alla verifica riguarda il rovesciamento della storiografia ufficiale che Manzoni applica in questi capitoli. Infatti la storiografia ufficiale ha sempre dato grande attenzione, esclusiva attenzione ai personaggi importanti, principali e non alla gente comune, non alla povera gente. Invece qui Manzoni sofferma il suo sguardo sulla gente comune, mostra da vicino le conseguenze orribili e terribili che la guerra provoca sui più poveri e così vediamo Don Abbondio che si lamenta mentre si dirige al castello dell'Innominato, che si lamenta che brontola per la sofferenza che deve subire. Così vediamo la vita dei profughi nel castello dell'Innominato, così vediamo la paura delle persone comuni nei confronti dei Lanzichenecchi e soprattutto vediamo l'orrore e la devastazione rappresentate attraverso le case distrutte e saccheggiate di Don Abbondio, Perpetua e Agnese. Allo stesso tempo per ottenere questo rovesciamento della storiografia ufficiale ma mantenere la veridicità storica in linea con il romanzo storico, Manzoni opera una fusione tra verità e invenzione ma questa invenzione è appunto un'invenzione verosimile e per ricostruire il contesto si appoggia a far riferimento a delle vere e proprie fonti storiche tra le quali citiamo l'istoria patria di Ripamonti, il raguaglio di Tadino e le numerose gride e documenti consultate dall'autore. Un altro elemento da considerare è la citazione del poeta Achillini che Manzoni fa per criticare la lirica barocca e la poesia encomiastica. Infatti il poeta Achillini viene citato in maniera ironica facendo un riferimento ai versi composti in occasione appunto della discesa dei francesi in Italia. Un'altra cosa da tenere in considerazione riguarda l'anafora ripetuta per ben undici volte della parola passano riferita alle truppe dei Lanzichenecchi che appunto passano il ponte di Lecco e questa ripetizione anaforica del verbo passano dalla prospettiva di chi guarda appunto le truppe passare serve ad enfatizzare quell'ansia, quell'angoscia, quell'attesa ma anche quella speranza che il tutto finisca al più presto dei fuggiaschi che appunto guardano le truppe dei Lanzichenecchi che lasciano finalmente il territorio di Milano. L'ultima cosa da tenere in considerazione riguarda la nuova vita dell'innominato dopo la sua conversione. Apprendiamo infatti che alcuni bravi hanno lasciato il castello, altri bravi sono rimasti con lui e che tutti i bravi rimasti, tutti i nemici dell'innominato e addirittura la polizia e il popolo ammirano l'innominato, lo rispettano e non si permettono di aggredirlo o approfittarsi della sua nuova vita in quanto l'innominato ha deciso di girare sempre disarmato e di non commettere più nessun atto di violenza. Allo stesso tempo però l'innominato ha conservato tutte quelle caratteristiche positive dell'uomo di un tempo, infatti si dimostra carismatico e coraggiosissimo come ci mostra il narratore quando ci racconta che l'innominato a capo di un piccolo esercito formato dai suoi uomini scaccia le truppe di Lanzichenecchi che avevano invaso un paesello vicino al suo castello. Un'altra riflessione sulla nuova vita dell'innominato riguarda il comportamento della giustizia in quanto la giustizia non punisce l'innominato, non lo arresta così l'innominato gode di impunità per tutti i terribili crimini commessi precedentemente. Su questo punto il narratore ci spiega che da un lato la giustizia riteneva inutile arrestare adesso l'innominato che si era convertito quando non era riuscito ad arrestarlo prima quando faceva del bene dunque sarebbe stato ridicolo arrestarlo in questo momento. Dall'altro lato c'è sempre il peso della famiglia potente e prestigiosa dell'innominato e da un altro lato ancora c'è la visione del mondo dell'autore in quanto l'innominato non deve essere giudicato dal tribunale degli uomini poiché la giustizia degli uomini come si dimostra in tutto il romanzo è fallace, fallisce, non è adeguata quindi l'unico tribunale che può giudicare la figura dell'innominato non è quello degli uomini bensì quello di dio e per questo motivo l'innominato non paga per i suoi crimini. Con questo concluso se hai domande ti risponderò in diretta su twitch, iscriviti al canale e in bocca al lupo!